Ciao miei piccoli amici di MyFastbook, oggi è il 19 di dicembre e mancano ancora pochissimi giorni, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e poi viene Natale. Oggi volevo mettere nel nostro calendario dell'Avvento una filastrocca proprio dedicata all'anno nuovo, perché abbiamo messo la Befana, non possiamo mai non mettere l'anno nuovo e c'è Gianni Rodari che ne ha scritta una bellissima, ascoltatemi. Indovina mi indovino, tu che leggi nel destino l'anno nuovo, come sarà bello, brutto o metà e metà? Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo quattro stagioni, 12 mesi ciascuno al suo posto, un carnevale e un ferragosto e il giorno dopo del lunedì sarà sempre un martedì. Di più per ora scritto non trovo nel destino dell'anno nuovo. È bellissima e abbiamo messo anche l'anno nuovo nel nostro calendario dell'Avvento. Ci vediamo domani per un'altra sorpresa. Ciao! A presto!